Nella tarda serata di ieri i carabinieri della compagnia di Eboli hanno arrestato un uomo di nazionalità marocchina di 34 anni in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Il 34enne, dimorante in zona Campolongo, è stato sorpreso sulla via litoranea di Eboli mentre cedeva una dose di hashish a due ragazzi. Nel corso della perquisizione la dose di hashish ceduta e la somma contante di 100 euro sono state sottoposte a sequestro. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.